Sono 21 le nuove guarigioni, di cui uno dal regime ospedaliero, registrate ieri a Torre del Greco. Certificati anche 23 casi di positività al Covid-19, di cui uno in regime ospedaliero e di restanti 22 in isolamento domiciliare. Comunicati in oltre tre decessi. Si tratta di due soggetti classe 1959 ed un soggetto classe 1944. Muta dunque il bilancio dei contagi a Torre del Greco. 40 cittadini ospedalizzati, 281 in isolamento domiciliare, 2.011 guariti e 61 deceduti. Sono 5 nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 11 guarigioni. 191 cittadini attualmente positivi, 179 posti in isolamento domiciliare e 12 ricoverati. Sala in 1.313 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1094 guarite e 28 decedute.